Ciao! Allora, questo è un video dedicato ad un prodotto di Brochet che nell'ultimo periodo è diventato uno dei miei preferiti perché si prende cura del nostro corpo ma ha anche un'attenzione particolare all'ambiente che in questo periodo è un tema abbastanza discusso e sicuramente importante per noi e per le generazioni future ed è proprio per questo che trovo che ogni piccola cosa è assolutamente importante perché poi no, alla fine i grandi risultati sono fatti veramente da piccoli progetti, da piccole cose e devo dire che piccola cosa è anche un termine appropriato per il prodotto di cui sto per parlarvi perché questo è il gel doccia concentrato, come vedete insomma è una taglia decisamente ridotta sono solamente 100 ml ma qual è l'innovazione? L'innovazione è che con 100 ml si possono fare fino a 40 docce in pratica un flacone è come se corrispondesse ad uno da 400 ml ed essendo un prodotto altamente concentrato in un format ridotto ovviamente questo equivale ad un utilizzo inferiore per ciò che riguarda la plastica la formula è biodegradabile ed il flacone è riciclabile che fa anche rima adesso passiamo alla parte pratica che è quella che io preferisco di solito una pressione del flacone equivale ad una dose quindi è anche facile da utilizzare senza appunto esagerare nelle dosi le profumazioni disponibili sono tre, riconoscibili da colori diversi questa è quella verde ed è, spero di pronunciarla bene, olive petit grain questa è la formula dalle proprietà rilassanti che per me è assolutamente perfetto perché come tante mamme passando la giornata veramente sempre in piedi a fare duemila cose e poi lo dico sempre sono una tipa iperattiva e quindi non sto ferma un attimo mi alzo prestissimo e tra no preparare i bambini, colazione, metterli sull'autobus andare a fare la spesa, lavorare al computer, andare in palestra, sistemare la casa, preparare la cena insomma le cose normalissime di tutte le mamme, di tutte noi mamme sicuramente poi arriva un momento in cui un attimino vuoi e credo che sia importante, sia doveroso quasi riuscire ad avere un momento tutto per noi e spesso, ovviamente parlo del mio caso non riesco a fare il bagno perché ovviamente richiede un po' più di tempo però una doccia con degli accorgimenti che le rendano ugualmente più rilassante assolutamente sì mettere sull'iPhone una musica che mi piace una musica tranquilla l'asciugamano più soffice che ho no, piccole cose che mi aiutano a distendermi e a rilassarmi a prepararmi per la notte e per il nuovo giorno per affrontare il giorno successivo e avere una formula che sicuramente contiene degli ingredienti degli oli che hanno delle proprietà rilassanti aiuta sicuramente la profumazione è fresca ma al tempo stesso molto leggera quindi perfetta per creare un momento che sia totalmente rilassante senza appunto avere una profumazione particolarmente pungente altra cosa da non sottovalutare è lo spazio soprattutto adesso che si inizia a viaggiare questa è una di quelle cose che sicuramente non mancherà nel mio beauty case quando viaggio cerco sempre queste no, le mini taglie però sapere e a volte mi finiscono però sapere che porto con me un prodotto che sì, è in formato ridotto e quindi insomma è facile da sistemare in valigia o nel borsone quando andate in palestra per me è importante sapere che non mi finisce tipo, no dopo due docce ma che riuscirò ad utilizzarlo svariate volte appunto fino a 40 volte ed è tutto spero che questo video vi sia piaciuto è sicuramente un thumbs up un pollice in su ad Yves Rocher per occuparsi sì, della nostra bellezza ma pensare anche non dimenticare l'ambiente e il nostro impatto perché siamo tanti no? quindi come ho detto una piccola cosa sicuramente aiuta e fa la differenza quindi vi mando un grandissimo bacio ciao! ciao!